stiamo osservando una nuova specie di ragno il ragno stucco è una specie di ragno mai vista prima mai 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 possiamo vedere la sua reazione ai nostri fa 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 spero non lo tocca ma è un ragno si si muove ma sembra un pidocchio enorme no guarda come si muove oh fa 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 oddio ma che cazzo è oh ma che mi manca una zampa è un ragno stucco se mi hai mitizzato lo stucco ma se si vede no vieni guarda si muove guarda 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 dimmi se inquadra stiamo osservando i suoi movimenti quindi è una nuova specie di ragno questo è un grande documentario ragazzi un piccolo un piccolo una piccola rana no ma ho già fatto la muffa sopra ma è bellissimo possiamo notare sulla destra sulla destra le antenne Matte guarda le antenne l'antico ragno stucco questo è le antenne comunque che cazzo è un ragno rana non si è mai visto un ragno così un ragno rana è un ragno assurdo e non si muove cazzo muovi di fatto per vedere il pubblico no 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 ecco dai è un ragno rana ragà io non ho mai visto una cos'è il ciove è un ragno rana non ho mai visto anzima rana niente che cazzo è quella cosa all'angolo che la parla 9 specie di animali Guardiamo il muro Mimetizzato nel muro L'evoluzione dell'animale E ora osserviamo un attimo una falena In questo habitat molto ospitale Questi tipi di insetti super brutti Guarda Matte, sembra un'immagine in 3D Guarda Che trip cazzo Guarda che trip Guarda l'effetto 3D Ma perché è una cifra spessa dal muro Ecco perché è grossa E' enorme Guarda L'insetto stucco Comunque questa è una pulce Il ragno stucco La pulce enorme Questa è la pulce del E' una pulce gigante Sì sembra una pulce gigante L'albumo ci è saltato Questo gioco Hai visto che non vuole cantare? Cos'è a prova? E' un pulce gigante La pulce gigante La pulce gigante Questa è una pulce gigante Questa è una pulce gigante